Non tanto, vedete. Ci diamo di più, vai. Ma, tipo, va bene. Infatti non dicevo meglio. Non dicevo più, dicevo di davvero di quella che ho qua. Un manifesto. Un manifesto. Adesso la mette su internet, è certo di comunicare che cosa vuol fare e se è meglio che la finisca, perché se no dobbiamo anche quella... No, ma il problema è una questione che è data. Poi arte, arte, la condivido. Però sulle facciate dei panetti... Guardi che condizione è questo strai. C'è lo strai sotto. Guardi che condizione è questo strai. Il strai al minimo, guardi che condizione è questo. è proprio per denunciare il degrado e la condizione che viene fatta magari sono altre forme non ci crea nessun problema questo e comunque fa parte dello spirito artistico del movimento il spirito artistico che per dare al contrario lo fa passare per dare alla provincia e venderà qualche privato per farci qualcosa per ne vanno al pubblico per ne vanno al pubblico